Il sindaco, lei stamattina ha avuto modo di parlare tramite un'emittente radiofonica con Mimmo Lucano, ci puoi dire cosa vi siete detto? Che grande emozione! E va bene, penso che si può anche andarla a ascoltare perché per me è stata una grande sorpresa e voglio ringraziare CRC perché non me l'aspettavo con Lucano, con Mimmo, ogni tanto ci sentiamo via WhatsApp, ci telefoniamo, però avere la sorpresa che lui stava in viaggio verso la sua terra e ci siamo sentiti e ci siamo sentiti. Siamo scambiati l'affetto che non mancherà mai e le lotte che faremo insieme per il nostro mezzogiorno. Sono due storie anche diverse, molto diverse, quella mia e quella di Mimmo, ma con dei punti di contatto importanti soprattutto nel cuore, nell'umanità, nell'amore per le nostre terre e per l'amore delle nostre terre che sconfiggeremo la criminalità organizzata e ogni forma di corruzione.